Ma Bluepoint, dopo Demon's Souls, dopo lo spettacolare Demon's Souls e dopo essere stata acquisita da Sony, è pronta per fare un gioco da zero? Tipo come si vocifera in questi giorni magari un sequel di Bloodborne? E cosa dovremmo aspettarci da un'eventualità del genere? Parliamone. Carai, bigente, bentornate e bentornati sul mio canale. Io sono Gianluca Loggia, meglio conosciuto come Walone. E oggi volevo parlarvi proprio di questa possibilità che Bluepoint possa regalarci qualcosa di inedito dopo una carriera passata. fondamentalmente a fare riedizioni di grandi giochi. Grandi riedizioni, scusate, di grandi giochi. Una carriera cominciata tempo fa e che al suo attivo non ha però qualcosa di particolarmente grosso a livello di inedito, a livello di gioco ex novo, gioco creato da zero. Non mi riferisco necessariamente a una nuova IP, ma anche, che ne so, IP già esistenti. Però con giochi, episodi, capitoli creati completamente da zero, da Bluepoint. Perché? Andiamo un po' a guardare insieme questa cosa. Ecco qua, se andiamo sulla pagina Wikipedia di Bluepoint, per andare a guardare che cosa questo team di sviluppo ha fatto nel corso della sua carriera, troviamo Blast Factor del 2006 come gioco assolutamente inedito. Il loro primo gioco è Blast Factor ed è sì un gioco inedito. Blast Factor è un gioco inedito, me lo ricordo anche abbastanza bene. Anzi, la prima volta che qualche giorno fa, quando ne ho parlato in live su Twitch della questione Bluepoint, quando sono andato a controllare il loro percorso, quando ho visto Blast Factor non neanche mi ricordavo cosa fosse. In realtà me lo ricordo molto bene. È uno dei primi giochi digitali, tra l'altro, che ho preso su PS3, perché era la novità di quella generazione, era la possibilità, come su Xbox 360, con Xbox Live Arcade, anche su PlayStation 3, semplicemente con giochi scaricabili, si chiamava così, senza un nome preciso, la possibilità di ottenere giochi direttamente scaricandoli dagli store dei produttori sulla propria console. È una novità fantastica che oggi, come sapete, è il mio modo preferito, anzi l'unico per ottenere giochi, ovvero attraverso la distribuzione digitale. Comunque, Blast Factor è stato uno dei primi giochi che ho comprato su PlayStation 3, quindi me lo ricordo, questo twin stick shooter molto carino, anche se niente di eccezionale, diciamo le cose come stanno, assolutamente niente di eccezionale. Fatto sta, fatto sta, ragazzi, che Blast Factor è veramente l'unico gioco inedito mai realizzato da Bluepoint. Dopodiché, che cosa altro ha fatto Bluepoint? Nel 2009 God of War Collection, nel 2011 la Collection Ico e Shadow of the Colossus, e sempre nel 2011 la HD Collection di Metal Gear Solid. Che cosa sono? Sono rimasterizzazioni, in un caso dei primi due God of War per PS2 su PS3, oppure di Ico e Shadow of the Colossus, che originariamente sono giochi PS2, rimasterizzati su PS3, e poi Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 e Peace Walker, che era l'episodio per PSP, no? Lo ricordate? Rimasterizzati per Xbox 360, nella HD Collection. Questi sono stati i lavori fatti da Bluepoint dopo Blast Factor. Poi continuiamo con che cosa? Con un PlayStation All-Stars Battle Royale in versione PlayStation Vita, che non è altro che una conversione del gioco originale per PlayStation 3 su PlayStation Vita, e poi Flower ancora, ma Flower non il Flower originale di Death Game Company, ma la rimasterizzazione del gioco originale per PlayStation 3 di Genova Shen e del suo team su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Quindi un'altra conversione. Quindi abbiamo rimasterizzazione, 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 conversione, rimasterizzazione. La versione Xbox 360 di Titanfall, che originariamente era stato sviluppato da Respawn Entertainment per Xbox One, la versione Xbox 360, è stata curata da Bluepoint, quindi ancora una volta un gioco già fatto, già bello e pronto, e sviluppato per un'altra piattaforma, in questo caso un'altra console della stessa famiglia. Ancora la Uncharted Nathan Drake Collection, ovvero le modalità single player dei primi tre Uncharted, presi dalla versione PlayStation 3 e convertiti o rimasterizzati, se preferite, tanto bene o male è la stessa cosa, in questo caso, per PlayStation 4. Così come la rimasterizzazione di Gravity Rush per PlayStation 4, il gioco originariamente uscito per PlayStation Vita e rimasterizzato da Bluepoint per PlayStation 4, e poi arrivano i due grandi, se vogliamo, capolavori di Bluepoint, ma che comunque, ragazzi, sono delle riedizioni, segnano un passo avanti rispetto a quanto fatto negli anni precedenti dalla Software House, ma comunque sono riedizioni. Mi sto riferendo ovviamente a Shadow of the Colossus del 2018, che è un remake grafico, questa volta non una semplice rimasterizzazione, non una semplice conversione, tra l'altro, come abbiamo visto, Bluepoint si era già occupata di Shadow of the Colossus nella raccolta Ico e Shadow of the Colossus rimasterizzati per PS3 dall'originale PS2, proprio da loro, ma stavolta fanno una cosa in più, fanno un remake grafico di Shadow of the Colossus, straordinario, veramente un lavoro bellissimo, un lavoro fantastico, un modo meraviglioso, per chi non l'avesse fatto all'epoca di andare a scoprire un grande capolavoro di Fumito Ueda, grazie anche all'arricchimento estetico portato da Bluepoint con questo remake grafico. Questo nel 2018 e nel 2020, quello che forse è, se ne dobbiamo scegliere uno solo, se ne dobbiamo scegliere uno solo, il capolavoro di Bluepoint Games, ovvero il recente Demon's Souls, visto al lancio di PlayStation 5, che è anche in questo caso un remake del gioco originale del 2009, realizzato da From Software, il grande capolavoro di Hidetaka Miyazaki, che ha dato il via al filone dei Souls, al genere dei Souls-like, di cui aspettiamo un'evoluzione il prossimo gennaio nella forma di Elden Ring, che attendiamo con grande ansia. Ma tornando a Bluepoint, come vediamo, a parte quel Blast Factor del 2006, che è un giochino indie molto carino, un twin stick shooter molto carino, bello colorato, così, ma neanche, ragazzi, eccezionale, né nel suo genere, che già all'epoca vantava forse esemplari un pizzico più interessanti, come Geometry Wars, a cui probabilmente in parte si ispirava Blast Factor, perché Geometry Wars in quegli anni ha dato il via un po' a questo revival dei twin stick shooter, a cui poi sono seguiti giochi di un certo spessore, come Superstar Dust HD di Housemarque, o Reesogan della stessa Housemarque. E ecco, Blast Factor non arriva a questi livelli, non è un Geometry Wars, non è un Superstar Dust HD, non è assolutamente un Reesogan, che per me è un po' il capolavoro di questa new wave del genere dei twin stick shooter, non è neanche un ex macchina, sempre di Housemarque, sempre fantastico. Quindi, all'attivo per Bluepoint, noi abbiamo fondamentalmente un gioco ok, che è un gioco da sette, sette e mezzo, nell'ambito dei giochi scaricabili di quel periodo 2005-2010, in cui c'era Xbox Live Arcade e un po' gli equivalenti su PlayStation 3. Non c'è altro, dopo di inedito, nella carriera di Bluepoint Games. Ci sono delle ottime, ottime, per carità, rimasterizzazioni, e ci sono degli eccezionali remake grafici, perché quelli di Shadow of the Colossus e quello di Demon's Souls sono degli eccezionali remake grafici. Ci basta questa cosa per aspettarci con grande entusiasmo, con un eccesso di hype, un gioco inedito da parte di Bluepoint Games? Perché faccio questa domanda? Perché in questo periodo ho notato che sono molte le persone che si aspettano grandi cose da un gioco inedito di Bluepoint Games. Tutti, no tutti, non esageriamo, molte persone, molti appassionati di videogiochi, sapete che mi capita di parlare con molti appassionati di videogiochi, tra il canale Twitch, tra il gruppo Telegram, i social, eccetera, un po' tutte le persone con cui parlo, che non siano persone della mia famiglia o amici stretti, ma pure con gli amici stretti si parla spesso e volentieri di videogiochi. Comunque, tutto il resto delle persone con cui mi capita di parlare generalmente sono appassionati di videogiochi e fondamentalmente quindi di discussioni su vari argomenti me ne capitano continuamente. Una di questi giorni è proprio la questione Bluepoint Games, dove ho notato che un sacco di persone attende veramente con ansia di vedere Bluepoint, ma non con curiosità, proprio con grande entusiasmo di vedere Bluepoint alle prese con un gioco realizzato da loro. Io sinceramente sono, non lo so, non credo che sia giustificato l'entusiasmo di chi si aspetta un grande capolavoro da Bluepoint alla sua prima uscita con un gioco praticamente inedito, seconda se consideriamo quel Blast Factor del 2006, ma io lo eliminerei anche dal... cioè nel senso non è un precedente che ci dice qualcosa di interessante. Ci dice molto di più chiaramente la capacità tecnica di Bluepoint dimostrata con Shadow of the Colossus e Demon's Souls, ma per me non è abbastanza però per immaginarsi un gioco di grande livello alla prima uscita di questa software house. Perché dico questo? Perché vi faccio un esempio. Noi perché ci aspettiamo un grande gioco da Naughty Dog, qualunque sia l'annuncio che riguarderà questa software house nei prossimi mesi, anni, perché a un certo punto succederà, a un evento Sony o a uno State of Play fatto apposta, ci presenteranno o un terzo capitolo di The Last of Us o una nuova IP curata da Neil Druckmann e compagni, perché in quel momento saremmo in preda all'hype? Perché Naughty Dog ha al suo attivo e la prima trilogia di Crash Bandicoot e Uncharted, tutta la saga, e i due The Last of Us fatti finora. Stiamo parlando di... e Jack and Dexter, scusate, dell'epoca PlayStation 2. Quindi stiamo parlando di una software house che negli ultimi trent'anni fondamentalmente ha sempre vissuto sulla cresta dell'onda con una qualità media dei suoi prodotti altissima, altissima. Poi è una questione di gusti, c'è chi gradisce e chi non gradisce qualunque gioco, sia i vecchi Crash e Jack and Dexter, sia i più nuovi Uncharted e The Last of Us, possono piacere o non piacere per tanti motivi, però se c'è dell'entusiasmo per un nuovo gioco di Naughty Dog, questo entusiasmo viene sicuramente dai fan dei giochi precedenti, ma ha motivo di esistere, perché finora Naughty Dog ha dimostrato una certa caratterizzazione dei suoi prodotti e soprattutto una certa qualità media dei suoi prodotti. Perché ci aspettiamo un grande gioco da Santa Monica? se annunciano un nuovo progetto, per esempio con a capo Cori Balrog, oppure perché abbiamo aspettative, comunque come minimo di buon livello per God of War Ragnarok, perché? Perché il God of War del 2018 era fighissimo e perché prima ancora Santa Monica ci aveva regalato il God of War per PS2 e quello per PS3 e Ascension, vabbè magari non tutti su un livello altissimo, però insomma i primi due God of War su PS2 erano dei capolavori assoluti, il God of War del 2018 ci è piaciuto da morire ed è normale che se annunciano qualcosa di nuovo ad opera di Santa Monica, noi siamo entusiasti. così come lo saremmo nei giusti modi e per i giusti gusti quando ci annunciano qualcosa di nuovo. Per esempio, perché abbiamo gran voglia di sapere di più su Wolverine di Insomniac? Perché ci piace Spider-Man, perché ci è piaciuto Spider-Man, perché ci è piaciuto Spider-Man Miles Morales, perché ci è piaciuto pure Ratchet & Clank Rift Apart, quindi consideriamo ci è piaciuto pure Sunset Overdrive, ci è piaciuto Resistance su PS3, ci sono piaciuti Ratchet & Clank su PS2, ci piaceva Spyro the Dragon su PlayStation 1, ecco abbiamo preso un'altra software house che è da 30 anni circa, che produce giochi di un certo livello di qualità ed è normale che tu ti aspetti a un certo punto che quando annunciano qualcosa di nuovo di questa software house tu accogli quest'annuncio con un certo entusiasmo. Però lo facciamo per una software house completamente nuova e senza aver visto ancora niente di che cosa stanno facendo? Generalmente no, ragazzi, generalmente no. E Bluepoint per me, al di là di aver realizzato dei grandi remake, non è una software house da cui io mi aspettiamo. Ragazzi, intendiamoci, non lo dico per smontare gli entusiasmi, anzi, avete visto che lista di possibili momenti d'entusiasmo ho a portata di mano quando vi cito cosa mi aspetterei da Naughty Dog, da Santa Monica, da Insomniac, da altre software, dalla stessa housemark, se vogliamo tornare ai recenti acquisti di PlayStation Studios. Se mi annunciano una roba nuova di housemark, anche se non mi dicono niente, 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 di che cos'è, ma io ho super entusiasmo. Perché? Perché avevo grande gusto nel giocare Super Stardust HD, perché avevo grande gusto nel giocare Resogun, non mi sono piaciuti allo stesso modo Dead Nation e Alienation e non ho provato Matterfall, però c'è un sacco di giochi di housemark, ovvero Super Stardust HD, Resogun e Next Machina, che mi sono piaciuti da morire quando mi hanno annunciato Returnal, sono impazzito, perché ho detto, fantastico, fanno una roba più verso i AAA, non totalmente AAA, ma verso i AAA con Returnal, l'ho provato, mi è piaciuto da morire anche Returnal, anche se lo trovo un gioco particolarmente ostico, ma comunque mi piace un sacco, e quindi se mi annunciano una roba nuova di housemark, io indirizzo in modo legittimo, secondo me, il mio entusiasmo verso quel tipo di annuncio, ok? non mi sento legittimato a dedicare il mio entusiasmo all'idea che Bluepoint possa essere al lavoro su un gioco completamente inedito, perché sarebbe a oggi il suo gioco numero 2 dal 2006 a oggi, dove il numero 1 è quel Blast Factor che, ragazzi, cioè, se mi dicessero nel 2006, oh, quelli di Blast Factor stanno facendo un nuovo gioco, ah, figo, cos'è? Blast Factor 2? oppure adesso invece del Twin Stick Shooter un po' derivativo, stanno facendo un puzzle game che scimmiotta un po' Tetris, perché, cioè, non mi aspetterei molto altro, poi, ovviamente, oggi sappiamo che, dal punto di vista tecnico, Bluepoint è andata molto avanti, con i remake di Shadow of the Colossus e di Demon's Souls, però non abbiamo niente a nostra disposizione per capire come se la possono cavare per quanto riguarda la scrittura di un videogioco, per quanto riguarda il lavoro sul game design di un videogioco, per quanto riguarda il lavoro sul level design di un videogioco, per quanto riguarda il lavoro sulla direzione artistica, sul concept di tutto ciò che è artistico ed estetico all'interno del videogioco, perché loro sono stati bravissimi tecnicamente a riprendere e migliorare tecnicamente opere di altissimo livello e di game design e di level design e di ispirazione artistica e di concept audiovisivo di altri autori, perché tu ti prendi in mano Shadow of the Colossus, che è pura genialità audiovisiva, è pura genialità d'atmosfera di Fumito Ueda, e ok, fai la bella grafica, fantastico, poi prendi in mano Demon's Souls, che è un altro capolavoro, oggi un po' grezzo, perché nel frattempo From Software è andata avanti, si è raffinata, anche in quello che ha imparato a fare da Demon's Souls in avanti, non che esistesse da allora From Software, però è inevitabile pensare che da Demon's Souls in avanti si possa parlare di un nuovo ciclo, per From Software, comunque migliorata la Software House in questo frangente, ma comunque era un capolavoro di Demon's Souls all'epoca, una gemma grezza, però comunque figa, comunque importante, e è ovvio, lo prendi in mano, ci metti la grafica bella, però non è che vai a inventare, quindi io non so tu quanto sei bravo a inventare robe di quella portata, e quindi io non cado nella tentazione di avere davanti agli occhi la bellezza del remake di Demon's Souls, di associarla al lavoro di Bluepoint e dire mamma mia, se hanno fatto Demon's Souls così, chissà cosa potranno fare con un gioco loro, ex novo. La risposta è boh, perché non hanno fatto niente di creativo con Demon's Souls, che non voglio sminuire il loro apporto anche importante, è anche super figo in termini di restauro e di riedizione di un'opera che era già un capolavoro, non lo voglio sminuire, lo voglio appunto però, voglio appunto sottolineare che cos'è davvero, perché non è nient'altro che questo, che poi è una roba fantastica per come è fatta, però è solo questo, non è un aver inventato Demon's Souls o aver inventato Shadow of the Colossus, è un aver valorizzato opere che già erano dei capolavori, questo finora sono stati in grado di fare Bluepoint nel migliore dei modi, secondo me sono i migliori al mondo, se vogliamo, i migliori della storia dei videogiochi nel fare questa roba qua, che è la riedizione figa di giochi che sono già dei capolavori, o magari possono fare anche di giochi che sono meno dei capolavori, comunque loro fanno delle riedizioni di altissimo livello, le migliori al mondo, senz'altro, senz'altro, però non lo so se questo poi ti dà la capacità di creare dei giochi da zero. Vediamo, sono molto curioso anch'io di vedere all'opera Bluepoint con qualcosa di inedito, però non voglio spegnere gli entusiasmi in modo cattivo, fastidioso, voglio semplicemente dire che secondo me non è giustificabile al momento un entusiasmo esagerato per un gioco inedito di Bluepoint, che fondamentalmente è un gioco inedito, a parte Blast Factor del 2006, non l'ha mai fatto nella sua carriera, mai, mai, e potremmo parlarne ancora per ora, però fondamentalmente il mio pensiero è questo, voglio sapere che cosa ne pensate anche voi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e se il video vi è piaciuto per favore mettete un bel mi piace, e commentate anche se non avete altro da aggiungere, dite mi è piaciuto il video oppure non sono d'accordo ma non so come esprimere il mio pensiero, ma semplicemente ti voglio dire che non sono d'accordo, fantastico, così date una mano al video a diffondersi grazie alle interazioni, i mi piace, i commenti, eccetera, quindi vai, interagite, interagite, e se non siete iscritti al canale iscrivetevi anche al canale, attivate anche le notifiche così se vi piacciono video di questo tipo ne avrete altri nei prossimi giorni, settimane, mesi, anni, speriamo per sempre. Grazie a tutti per aver ascoltato fino a qui, io vi ricordo che sono anche su Twitch dal lunedì al venerdì dopo pranzo, quindi ci vediamo anche lì per chiacchierare di questo e altri argomenti, e invece su YouTube vi do appuntamento ad un prossimo video. Grazie e caraibi a tutti. Fermi tutti, un caraibi anche da parte di KJ Presidio e da parte della redazione di Kaiba Station, detta Kaiba Station. Vi ricordiamo che potete cliccare in giro qui sullo schermo per vedere altri video su questo stesso canale. Grazie e caraibi.